Giacomo Leopardi, come si fa a ridurre una figura così importante della letteratura italiana a un breve ripasso? Si fa, lo facciamo, però mi raccomando, cercate poi di approfondire per conto vostro. Allora, andiamo veramente rapidissimi perché lo sapete, qua si parla veramente di uno dei principali autori della letteratura italiana di tutti i tempi, è riduttivo chiamarlo poeta, è riduttivo chiamarlo filosofo, è riduttivo chiamarlo intellettuale, è stato veramente un grande e ci ha lasciato dei capolavori clamorosi. Allora, piccolo consiglio, non è un capolavoro ma per un riassuntino della vita potete guardare il film Il Giovane Favoloso, se non sbaglio il regista è martone, lo trovate su tutte le piattaforme del mondo, quindi non vi può scappare, con qualcuno l'abbiamo anche visto già a scuola, riassuntino della vita, allora, voi lo sapete, nasce a Re Canati. Nel 1798 non ci fissiamo sulle date, però cerchiamo di inquadrare in che periodo siamo, c'è stata la rivoluzione francese, l'illuminismo sta prendendo piede un certo materialismo, di lì a poco, questo è fondamentale, quasi contemporaneo, il filosofo Schopenhauer, autore della grande opera Il mondo come volontà e rappresentazione, questo è importante, ricordatevelo per tutto il discorso sulle illusioni, Leopardi anticipa infatti tutto quel filone maledetto degli Schopenhauer, dei Nietzsche, che ci portano a smetterla con le illusioni, a smetterla con la metafisica e a prenderci le nostre responsabilità di esseri umani. Arriverà Nietzsche a dire che Dio è morto, quindi annullamento totale dei valori metafisici. L'uomo è solo nell'universo, in una vita molto probabilmente senza alcun senso, evviva. Però Leopardi è stato molto di più dello sfigato, gobbo, pesante, triste, che ci può dire qualsiasi alunno delle elementari o delle medie. Allora, vi ho detto quando è nato, vi ho detto dove, dove perché è importante? Perché era fuori dai giri delle città più importanti, in quel momento Milano, tanto per cambiare, Firenze e, nelle sue illusioni, anche Roma. Lo sapete, da ragazzino, da bambino studia tantissimo, lui con sua sorella e suo fratello, perché costretto dal conte Monaldo Leopardi, da suo padre, addirittura autodefinisce i suoi sette anni di studio matto e disperatissimo, siamo intorno dal 1809 al 1816. Si piega la schiena sui libri, si rovina la vista, ma non molla e infatti diventa uno dei numeri uno, se non il numero uno della letteratura moderna. Lasciamo stare il tridente Dante Petrarca Boccaccio, ma tra i poeti moderni e contemporanei è difficile raggiungere il valore di Leopardi. Allora, un anno decisivo della sua formazione, il 1817, anno in cui comincia a scrivere lo Zibaldone, vediamo dopo che cos'è nello specifico. Stringe un'amicizia da primo epistolare, poi si conoscono davvero con il letterato Pietro Giordani, scrive le sue prime cose, si innamora, comincia a soffrire disperatamente e durante tutta la sua vita elabora delle teorie filosofiche che appunto emergono nello Zibaldone, diario dei pensieri, diario di pensieri, che cos'è? Una specie di diario intellettuale che Leopardi scrive quasi tutti i giorni, con uno stile si dirà funzionale, cioè per arrivare all'obiettivo, per arrivare a quello che ci vuole dire e che verrà poi rimesso insieme da sua sorella, dalla sorella del suo amico Ranieri, insomma, e che adesso rappresenta un monte di pagine incredibile, da cui però attingiamo tanto delle idee di Leopardi e tanto di quello che voleva emergesse dalle sue poesie. Zibaldone, un'opera che vedremo, seconda opera che vedremo saranno le cosiddette operette morali che escono nel 1827, se pensate alla portata provocatoria, filosofica, delle operette morali rispetto all'edizione ventisettana dei Promessi Sposi di Manzoni. Quindi siamo in contemporanea Manzoni, pensate il valore di Leopardi rispetto a Manzoni, che pur ci sorbiamo dalle scuole elementari, medie in poi, con il suo romanzone, storico stucchevole, bigotto moralista e Promessi Sposi, pensate a, nello stesso anno esce la ventisettana in cui Leopardi pubblica le operette morali e le vedremo, e poi tutte le poesie che abbiamo fatto, per fortuna, sono radunate anche attualmente in un volume che si chiama I canti, le poesie. Viaggio di pari passo col libro, ragazzi, quindi giro pagina per andare all'ultimo paragrafo in me, ovvero la morte, dopo aver tanto girovagato, lo sapete che progettava la fuga da Recanati sin dalla giovanissima età, una volta la fuga è sventata perché il padre lo scopre, un'altra volta riesce finalmente ad andarsene, Roma lo delude, una Roma che ancora è veramente in mano al clero, in mano al provincialismo più becero, poi Milano, Firenze e poi finalmente Napoli, dove trova, in questa città trova del sollievo, si va a mangiare i suoi gelatini, eccetera, eccetera, e soprattutto poco prima di morire, nel 1837 scrive l'ennesimo capolavoro, ovvero la ginestra, stando su questo terrazzo nella casa insieme al suo amico Ranieri di Torre del Greco, Torre Annunziata, insomma ai piedi del Vesuvio, scriverà il suo ultimo capolavoro, la ginestra, e poi ci lascia nel 1837, ovviamente molto giovane, prima dei 40 anni, 39 anni, si spegne il nostro Giacomo Leopardi. Allora, il pensiero filosofico, perché cosa è riconosciuto Leopardi? Per il pessimismo, ma attenzione ragazzi, è un pessimismo filosofico, un pessimismo che vuole indagare, che vuole interpretare la realtà, la condizione umana, il senso dell'esistenza, non è il pessimismo di dire quanto facciamo stasera, perdiamo 3 a 1, oppure vedrai che domani che andiamo al mare piove, no, è un pessimismo, ripeto, che indaga i meccanismi dell'esistenza umana. Siamo soliti dividere questo pessimismo, questo pensiero filosofico di Leopardi, che emerge durante tutta la scrittura dello Zibaldone, dalle pagine del suo diario intellettuale, in tre fasi, pessimismo storico, pessimismo cosmico e l'ultima fase, il cosiddetto pessimismo combattivo, ma ancora una volta la definizione non è dello stesso Leopardi, è di un critico, ok? Vediamo che cos'è il pessimismo storico. La causa dell'infelicità umana sta nella civiltà. Più diventiamo consapevoli, più quindi ci contrapponiamo al nostro stato di natura e più soffriamo. La civiltà ha la colpa di aver distrutto le illusioni che rendevano la vita sopportabile. Mi spiego, facciamo sempre il parallelismo tra la storia dell'umanità, uomo primitivo, civiltà contemporanea, oppure il singolo individuo, bambino, adulto. Quando eravamo bambini eravamo inconsapevoli di un sacco di cose, ci faceva paura il buio, ma ci lasciavamo sorprendere, ma credevamo a tutto, ma eravamo continuamente emozionati, ma credevamo a Babbo Natale, eccetera, eccetera. Sono esempi stupidi, ma per arrivare al punto. Da adulti siamo consapevoli di una serie di cose, non crediamo più a certe illusioni. E quindi la vita è più difficile, è più triste, prevede più sofferenza. Così il cammino dell'essere umano. Il primitivo viveva in simbiosi con la natura, rispettava i cicli della natura ed era parte della natura. L'uomo civilizzato è consapevole, ha studiato, padroneggia le scienze, sta scoprendo in quegli anni che l'uomo appartiene alla natura, ma se ne è distaccato per l'evoluzione del pensiero, e quindi soffre per la morte, per il passare del tempo, per il suo destino. Quindi, attenzione, nella prima fase, il pessimismo storico, l'infelicità è colpa della civiltà. Poi però c'è un passaggio ulteriore nella seconda fase del pessimismo, del ragionamento sul pessimismo di Leopardi, ed è il pessimismo cosmico. Ovvero, beh, Leopardi si distacca clamorosamente dal cristianesimo, si lega al materialismo, e quindi non esiste nulla, abbandona ogni ipotesi di elementi spirituali, di esistenza dell'anima umana, di Dio, di qualsiasi entità metafisica. E la nuova causa di infelicità è l'impossibilità congenita, connaturata dell'uomo di essere felice. La natura non è più una forza positiva, che perlomeno ci illude, e che ci protegge dalla consapevolezza dell'infelicità. Al contrario, la natura è considerata come colpevole e malvagia. Lo vedremo durante la lettura dei testi. È una matrigna, non è una madre, la nostra natura. Ovviamente per natura, ragazzi, si intende quello che forse in greco possiamo chiamare ananche, cioè lo stato delle cose, lo stato immutabile delle cose, lo sfondo su cui tutto l'universo si muove. Non certo la natura del parco, degli alberi, perché sennò quando diciamo che Leopardi è contro la natura e quando lui nella ginestra invita gli uomini a, lo vedremo adesso nel pessimismo combattivo, a unirsi, a essere solidali per sconfiggere il nemico comune nella natura, ci immaginiamo agli uomini che vanno a dare fuoco ai boschi o che buttano l'immondizia per strada. No! Va bene? Allora, l'abbiamo, l'ho già detto, terza fase, il pessimismo combattivo. Verrà fuori nella sua grande poesia la ginestra, gli uomini dovrebbero formare questa social catena, essere solidali tra loro e cercare di vivere al meglio aiutandosi, combattendo appunto contro, in senso figurato, il nemico comune che è la natura che congenitamente è colpevole di farci soffrire. Ovviamente ogni tipo di pessimismo, lo vedremo in alcuni testi, ha tante sfaccettature diverse, questa lezione è veramente fatta alla veloce, solo per risvegliarvi qualche idea, ma il tutto è da approfondire. Allora, abbiamo detto, tre opere che abbiamo visto, cerco di andare veramente, veramente, veramente veloce, darvi solo qualche spunto, Lo zibaldone di pensieri, diario intellettuale privato, ve l'ho già detto, da cui emergono le sue idee, da cui emerge la sua filosofia, da cui possiamo dedurre alcune interpretazioni delle sue opere, che siano le operette morali o che siano le poesie. Vi ho già detto che in questo caso utilizza uno stile funzionale, cioè deve arrivare al punto, deve dimostrare con argomentazioni quello che lui sostiene. Però attenzione, io vi ho sempre detto che gli scrittori in questo sono un po', scusatemi la parola, paraculi, lo faceva già Petrarca con le lettere a se stesso, le familiari, fingendo di scrivere appunto come se nessuno trovasse mai, se nessuno trovasse mai questi scritti. Anche molti altri artisti hanno scritto un diario personale come se nessuno poi lo trovasse, lo pubblicasse. Attenzione, gli artisti sanno benissimo che le loro opere sono destinate alla pubblicazione. Quindi, stile funzionale, sì, ci sono tante parentesi quadre, tanti pezzi mancanti, ma Leopardi ha scritto lo Zibaldone per noi, sapeva benissimo che sarebbe arrivato a noi. Che cosa abbiamo letto noi dello Zibaldone? Soltanto un breve frammento che è la teoria del piacere. Per voi a pagina 604, vi ricordate, la tesi di fondo qual era? che nell'uomo c'è un desiderio infinito di piacere, quasi come fosse l'idea perfetta del piacere, il noumeno, l'idea platonica di piacere, ma questo desiderio è irrealizzabile, perché le possibilità di appagarlo sono invece finite, concrete. Sono i fenomeni, le manifestazioni, le rappresentazioni. Quindi, datevi una lettura, la teoria del piacere, Zibaldone di pensieri. Allora, arriviamo poi alle operette morali. Ve l'ho detto, 1827, siamo in un momento in cui tutta la civiltà, la società, si sta trasformando, c'è una grande fiducia. Perché Leopardi è attualissimo? E mi sembra che, anche se il primo autore che si fa in quinta, perlomeno che io faccio in quinta, mi sembra che sia di un'attualità sconvolgente, perché oggi siamo nell'esasperazione di quella che doveva apparire la società agli occhi di Leopardi. Cioè, con questo think positive che ci ha distrutto le vite, cioè di essere sempre a mille, che i sogni si realizzeranno e che tutto andrà bene, stiamo poi cedendo la possibilità invece di essere anche disperati, tristi, profondi, qualche volta restare in solitudine, qualche volta non avere voglia di essere a mille, per l'appunto, come ho detto prima. E lui era circondato da una società in completa fiducia nel progresso, nelle sorti dell'umanità. E lui invece diceva Alt, attenzione, è vero che tutto intorno a noi sta lentamente migliorando. Arriveranno le scoperte scientifiche, arriveranno le invenzioni tecnologiche, arriverà il benessere, ma attenzione, le domande dell'uomo, le domande dell'essere umano saranno sempre le stesse, pesantissime, dalla risposta impossibile e ci condurranno sempre alla grande, grandissima incertezza del senso della vita. Questo viene fuori dalle operette morali. Purtroppo noi ne abbiamo viste solo un paio, mi concentrerei sul dialogo della natura di un islandese. Vi ricordate, c'è questo islandese che a un certo punto perché sceglie proprio un islandese Leopardi? Perché sta in un territorio che a livello naturale ne patisce di tutti i colori, ci sono poche risorse, c'è poco da mangiare, fa freddissimo in inverno, fa caldissimo in estate, terremoti, eruzioni, geyser, eccetera, eccetera. parte il povero islandese, gira tutto il mondo, non si trova bene da nessuna parte, ovviamente ve lo sto riassumendo, lo dovete rileggere voi, finché arriva in Africa. In Africa a un certo punto si imbatte in una donna gigante appoggiata sul fianco a una montagna che è la natura, l'allegoria, la personificazione della natura. E la natura è subito trancheant si direbbe, cioè lo secca subito e dice io sono quella che tu fuggi. Povero islandese stava sfuggendo alla natura perché dice io in ogni luogo in cui sono andato là si sta bene come clima ma ci sono gli uragani, lì ottimo ma gli insetti, là gli animali velenosi, là gli animali feroci, qui le tempeste, lì freddo, qui caldo, stavo appunto fuggendo alla natura e invece mi imbatto in te. E comincia il loro dialogo che se volete è ancora più tremendo del pessimismo cosmico perché emerge da questo dialogo che la natura non ha nemmeno intenzione di ferire l'essere umano ma la natura non se ne occupa proprio e l'islandese rilancia, dice ma è come se tu mi avessi invitato a una festa a casa tua e poi mi lasciate e la natura lo blocca e dice no, 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 no ma ti stai sbagliando cioè io non non ti stimo più di una formica di una briciola non sei nulla ai miei occhi vedete che il messaggio è ancora più tremendo perché avere un nemico in qualche modo lasciatemi dire è più semplice prendersela con qualcuno è la natura che ci odia che ci mette alla prova no, la natura è indifferente quante volte questa indifferenza gelida della natura verrà fuori dai suoi testi impersonificata dalla luna per esempio alla luna oppure il pastore Rantellasia si rivolge alla luna e la luna è lì argentea illuminata da questa debole luce riflessa che non risponde poi il finale è addirittura ironico tipico delle operette morali perché come finisce finale incerto dice alcuni dicono che la sabbia una tempesta di sabbia cioè quindi la natura ha sommerso l'islandese proprio mentre la natura stava stava ancora rispondendo sul senso della vita umana e viene poi ritrovato un mezzo mummificato anni dopo ed esposto in un museo oppure un finale alternativo è che l'islandese poveretto viene mangiato sbranato da due leoni magri molto molto affamati vedete ancora una volta un elemento è la natura stessa che lo uccide e provoca la morte passiamo di corsissimo io mi vergogno di fare leopardi così in fretta però spero che possa esservi utile passiamo ai canti canti sinonimo di poesia non è un'opera diciamo compiuta la titoliamo così e ci raccogliamo tutte le le poesie allora la prima che abbiamo visto è il capolavoro assoluto della letteratura italiana qui veramente siamo sulla scorta della grande eredità di Petrarca di Dante ed è l'infinito l'infinito come si fa a ridurre in pochi in pochi minuti l'infinito di leopardi di solito spacca la classe in due che cosa vediamo noi nell'infinito vediamo una consolazione o vediamo il terrore di appartenere a questo universo per l'appunto infinito del quale non possiamo sapere tutto possiamo sapere quasi niente vi ho fatto addirittura ascoltare due interpretazioni due grandi attori per la versione diciamo idilliaca consolatoria vi ho fatto sentire Vittorio Gasman invece vi ho fatto sentire Carmelo Bene per la versione disperata angosciante angoscia più di paura è la parola chiave perché la paura ha un oggetto ci sentiamo in pericolo perché abbiamo paura di qualcosa l'angoscia invece è quando abbiamo questa sensazione di terrore di ansia per qualcosa che non conosciamo che cosa c'è di bello nell'infinito di leopardi tutto è una sensazione questa di essere messi davanti all'infinito che proveremo che proverete che abbiamo provato che avete provato che proveranno tutti sempre caro mi fu quest'ermocolle questa siepe che da tanta parte dell'ultimo orizzonte il guardo esclude ma sedendo e mirando interminati spazi di là da quelle sovrumani silenzi e profondissima quiete io nel pensier mi fingo ove per poco il cor non si spaura e come il vento odo stormir tra queste piante io quello infinito silenzio a questa voce vo comparando e mi sovviene l'eterno e le morte stagioni e la presente viva il suon di lei così tra questa immensità s'annega il pensier mio e il naufragarme dolce in questo mare ragazzi un capolavoro assoluto scritto in endecasillabi sciolti quindi leopardi attenzione a etichettarlo come poeta vecchio classico ottocentesco perché ci dà degli spunti di modernità e di contemporaneità incredibili e poi qui abbiamo delle scelte stilistiche che sono dei capolavori questo usare questo questa quando gli oggetti sono concreti e vicini quello quella quando gli oggetti sono invece impalpabili sono lontani sono indefinibili e poi l'uso incredibile che fa dell'enjambement quando divide in terminati spazi quando divide sovrumani silenzi siamo costretti a prendere fiato a fare una pausa di fronte a questi concetti di spazio di tempo di silenzio è un capolavoro assoluto l'ultimo verso poi me dolce naufragar in questo mare vedete che combina con queste due scelte lessicali quello che vi dicevo all'inizio ma allora mi è dolce l'infinito o è un naufragio che cos'è un naufragio è perdersi nel mare contro la nostra volontà una tempesta fa naufragare una nave e tutt'al più il navigante si ritrova privo di sensi su una spiaggia deserta aggrappata una zattera attenzione ai termini naufragare però mi è dolce in questo mare ragazzi sarebbe da approfondire parola per parola verso per verso questo è solo un ripasso voliamo quindi all'altra all'altro capolavoro ma sono tutti i capolavori quelli di leopardi che è a silvia vi ricordate la poesia dedicata a teresa la figlia del del cocchiere di casa leopardi di cui leopardi si si era innamorato e guardava dalla finestra mentre questa questa povera ragazza filava al telaio perché dico povera perché muore ahimè in giovanissima in giovanissima età che cosa c'è da ricordare tutto ma noi la ricordiamo soprattutto per una cosa perché a un certo punto leopardi dicendo che lei privata delle attività che potrebbero che potevano divertire che potevano rendere bella piena ricca la vita di una di una ragazzina così giovane la morte la strappa via però leopardi dice a me è successa la stessa cosa anche se sono ancora vivo l'età adulta la consapevolezza lo studio la mia solitudine hanno fatto la stessa cosa che a te ha fatto la malattia che a te ha fatto la vita facendoti ammalare portandoti via e poi c'è una frase un verso bellissimo il verso 60 61 e poi chiude al verso 64 che dice all'apparir del vero tu misera cadesti a chi si rivolge alla speranza noi ci consoliamo dicendo sempre la speranza è l'ultima morire ci illudiamo sempre che sia così leopardi ci dice all'apparir del vero tu misera cadesti e con la mano la fredda morte e una tomba ignuda mostravi di lontano cioè cari esseri umani ci dice leopardi affranto per la morte della sua amata teresa che chiama silvia nella poesia ci dice attenzione che quando crollano le illusioni la speranza può fare un'unica cosa indicarci la morte la tomba con la sua fredda mano è certo che era inviso a tutti quelli che lo circondavano inviso alla cultura galoppante dei letterati dell'epoca mi ricordate nel film c'è un bel episodio chissà se è preso da una storia vera chissà se è inventato quando lui si trova a Napoli mangia il suo gelatino e i due gli dicono si siedono al tavolo lo riconoscono gli dicono leopardi lei è anzi forse gli davano del voi poco importa è bravissimo ha mille qualità è colto è un genio è un grande poeta però sempre questa tristezza ma non è che è collegata al fatto che che lei è infermo la gobba la vista la malattia e lui no si arrabbia come una furia no non è per la mia condizione dice leopardi ma perché mi sembra di essere l'unico che si accorge della condizione dell'uomo che si sta illudendo di aver trovato nella scienza nell'onnipotenza della ragione il proprio scopo la propria eternità e invece non è così perché le grandi domande rimangono insolute il tempo continua a passare inesorabile e crudele e la morte arriva per tutti eh andiamo avanti siamo al canto notturno di un pastore errante dell'Asia pagina 633 qui ci sono due grandi leitmotif si direbbero tormentoni dai diciamo tormentoni di leopardi uno il rivolgersi alla luna ve lo dicevo prima come interlocutrice immobile zitta eterna fredda della natura simbolo della natura e due la diversità tra essere umano e animale l'essere umano che consapevole soffre e l'animale che invece partecipa alla natura senza consapevolezza e che quindi non soffre che fai che fai tu luna in ciel dimmi che fai silenziosa luna e parte tutta questa questo sfogo del pastore errante dell'Asia questo sfogo che lui fa alla luna dimmi o luna che vale al pastor la sua vita la vostra vita a voi dimmi dove tende questo vagare mio breve il tuo corso immortale vedete già il mio vagare breve la mia vita breve rispetto al tuo corso immortale salto i versi più cioè salto da verso a verso e voi leggetela tutta e dove il tanto affaticar fu volto abisso orrido immenso ovei precipitando il tutto oblia vergine luna tale è la vita mortale dice cosa mi serve faticare svegliarmi tutte le mattine condurre il bestiame se poi il mio destino è l'oblio e precipitare in un abisso orrido immenso e ancora ma tu per certo giovinetta immortal conosci il tutto questo io conosco e sento che degli eterni giri che dell'essere mio frale qualche bene o contento avrà forse altri a me la vita è male vedete che leopardi non ci lascia scampo è un pugno nello stomaco sempre e poi ecco qua il confronto invece con il gregge che lui porta a pascolare questo tema ritornerà lo vediamo tra poco nel passero solitario o greggia mia che posi o te beata che la miseria tua credo non sai quanta invidia ti porto non sol perché d'affanno quasi libera vai con ogni stento ogni danno ogni estremo timor subito scordi ma più perché già mai tedio non provi quando tu siedi all'ombra sovra l'erbe tu sei quieta e contenta e gran parte dell'anno senza noia consumi in quello stato e io pur seggo sovra l'erbe all'ombra e un fastidio mi ingombra la mente e uno sprong quasi mi punge sicché sedendo più che mai son lunge da trovare pace o loco dice ma è possibile che facciamo la stessa vita vi sdraiate all'ombra riposate e però non provate tedio non avete malinconia partecipate alla natura non avete consapevolezza io invece proprio quando mi fermo all'ombra a riposare comincio a pensare a riflettere a struggermi della mia condizione e soffro e soffro ora andiamo alla quiete dopo la tempesta altra grande tematica di leopardi forse presa per l'appunto da no presa di pari passo a quello che avete imparato in filosofia con schopenhauer la quiete dopo la tempesta che cosa ci dice quando è che l'uomo ha dei brevi intervalli di felicità quando finisce una tempesta quando cioè finisce un dolore come al solito regia che parte da lontano inquadra il paese da lontano paese sconvolto da questo forte temporale da questa tempesta quando finisce la tempesta finalmente tutti si riprendono dallo spavento tornano alle loro attività si riaprono le porte dei balconi tornano gli animali a razzolare nelle aie e sentite leopardi ironicamente si rivolge alla natura altra cosa tipica di leopardi rivolgersi direttamente all'interlocutore immaginario reale che sia e dice nei versi conclusivi o natura cortese sono questi i doni tuoi questi diletti sono che tu porge ai mortali uscir di pena e di letto fra noi cioè questi sono i regali che ci fai cara natura gentilissima natura l'unica felicità l'unico diletto è uscire dal dolore pene tu spargi a larga mano il duolo spontaneo sorge di piacer quel tanto che per mostro e miracolo talvolta nasce d'affanno è gran guadagno e poi si rivolge agli umani dice questo è il nostro tutto il nostro guadagno gran guadagno è quando scampiamo un accidente un dolore lì siamo felici per qualche istante allora umana prole cara agli eterni ovviamente ironico assai felice se respirarti lice d'alcun dolor beata se te d'ogni dolor morte risana cioè tematica che è molto cara ai poeti questa di trovare pace solo nella morte leopardi si rivolge agli umani e dice ragazzi saremo beati se da ogni dolore ci risanerà la morte cioè la nostra unica salvezza per non soffrire più è la morte qui è quasi induista buddista cioè abbandonare i desideri è l'unica via per la liberazione per stare bene soltanto leopardi riprenderà questo concetto una poesia bellissima ma saremo nel novecento inoltrato che chiuderà dicendo io muoio e anche questo mi nuoce invece la posa leopardiana di tanti poeti del passato è che la morte ci libererà perlomeno dal dolore e dagli affanni poi abbiamo il sabato del villaggio pagina 642 sabato del villaggio tematica che è comprensibile veramente da tutti giorno più bello della settimana qual è la domenica che festa no il sabato che è l'attesa della festa perché ci possiamo illudere perché possiamo avere grandi aspettative grandi speranze poi quando arriva la festa siamo già col pensiero a lunedì alla ripresa del lavoro alla ripresa della scuola alla ripresa delle nostre attività pensate all'estate ve lo dico sempre in classe quanto è più bello giugno quanto è più frizzante quando c'è ancora tutta l'estate davanti e quanto sono già malinconiche invece le serate di agosto quando ci mettiamo già una felpina sulle spalle perché fa già freschino e si sta avvicinando il settembre la ripresa e la ripresa di tutte le nostre attività sentite cosa dice Leopardi anche qui non la leggiamo tutta per ragioni di tempo questo di sette è il più gradito giorno pien di speme e di gioia di man tristezza e noia recheran l'ore e al travaglio usato ciascuno in suo pensier farà ritorno e poi si rivolge a un ragazzino mitica espressione il garzoncello scherzoso lo chiama Leopardi garzoncello scherzoso cotesta età fiorita e come un giorno d'allegrezza pieno giorno chiaro sereno che precorre alla festa di tua vita godi fanciullo mio stato soave stagion lieta e cotesta altro dirti non vo ma la tua festa canco tardi a venir non ti sia grave cioè suggerisce a questo ragazzino non aver fretta di crescere quella che tu credi che sia la tua festa la tua domenica cioè l'età adulta non aver fretta di raggiungerla il prima possibile perché l'età bella piena carica di illusione di speranze dell'essere umano è la fanciullezza è la prima gioventù quindi non ti dispiacere se la domenica tarda ad arrivare poi abbiamo il passero solitario la facciamo veramente al volo Leopardi si paragona a questo animale perché come lui canta cantare sinonimo ovviamente di fare poesia e come lui è solitario anche Leopardi si è isolato non ha mai partecipato alla vita dei suoi coetanei alla vita piena di divertimenti di spensieratezza però anche qui negli ultimi versi si rivolge direttamente al passero solitario e vediamo ancora una volta rimarcata questa differenza tra l'essere umano e gli elementi e la natura tu solingo augellin venuto a sera del viver che daranno a te le stelle certo del tuo costume non ti dorrai che di natura è frutto ogni vostra vaghezza dice quando tu sarai venuto a sera cioè al momento di morire del viver che ti daranno le stelle vuol dire che il destino ti avrà riservato non ti dorrai cioè non avrai dolore del tuo costume perché di natura di natura è frutta ogni vostra vaghezza cioè tu hai agito non hai scelto niente non hai rimpianti ti sei comportato secondo il tuo istinto secondo quello che è il ciclo della natura a me se di vecchiezza la detestata soglia evitar non impetro quando muti questi occhi all'altrui core e loro fiavoto il mondo e il di futuro del di presente più noioso e tetro che parrà di tal voglia che di questa anni miei che di me stesso hai pentirommi spesso ma sconsolato volgerommi indietro vedete anche lui arriverà alla fine della sua vita addirittura dicendo se la detesta se supero la detesta se arrivo alla detestata detestabile vecchiaia e poi mi guarderò indietro e avrò soltanto un sacco di rimpianti per non aver vissuto come andava fatto e chiudiamo al volissimo con la ginestra il fiore del deserto lo sapete Leopardi ormai nell'ultimo periodo della sua vita siamo davvero agli sgoccioli osserva da questa terrazza torre annunziata torre del greco non importa il vesuvio e dedica questa poesia alla ginestra questo fiore che cresce sulle pendici del vesuvio ma è importante già dire l'epigrafe che sta in testa alla poesia tratta dal vangelo di Giovanni che cosa riporta Leopardi e gli uomini vollero piuttosto le tenebre che la luce perché lui e lo diciamo dall'inizio sta rimproverando a tutti di volere le tenebre di non voler far chiarezza di non voler arrivare alla luce ovvero la verità ma di illudersi di essere contenti di partecipare a una grande gigantesca illusione che sia la fiducia in entità metafisiche come Dio l'eternità dell'anima che sia la fiducia nella scienza nella medicina nella ragione umana vi state illudendo la verità è quella che vi dico io e ahimè ahi noi porta alla disperazione porterà Nice al nichilismo qui sull'arida schiena del formidabil monte sterminator vesevo la qual null'altro allegra arbor né fiore tuoi cespi solitari intorno spargi odorata ginestra contenta dei deserti vedete la ginestra è destinata per natura nasce in questi luoghi desertici e perlomeno li abbellisce li profuma li colora che cosa fa Leopardi ci dice praticamente il Vesuvio lo porta a dire guardate come in un attimo ancora oggi quando si sente un tremolio qua i contadini prendono quello che possono e scappano perché in un lampo in un secondo l'eruzione ha distrutto due grandi città ma in particolare una ha distrutto Pompei ritrovata secoli e secoli dopo quasi intatta talmente stata la furia del vulcano talmente stato veloce l'eruzione e quindi dice che cos'è questa natura che voi amate quelli che che parlano che 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 inneggiano alla natura alla vita umana dovrebbero venire qua da queste da queste parti guardare queste rovine guardare quanto conta il genere umano che può essere spazzato via da un secondo all'altro da un'eruzione vulcanica se non da un maremoto da un terremoto a queste piagge venga colui che d'esaltar con lode il nostro stato ha in uso e vegga quanto è il genere nostro in cura all'amante natura e la possanza qui con giusta misura anque stimar potrà dell'uman seme cui la dura nutrice ovei menteme con lieve moto in un momento annulla in parte e può con moti poco men lievi ancor subitamente annichilare in tutto dipinte in queste rive sono dell'umana gente le magnifiche sorti e progressive e lo mette in corsivo lui nella poesia le magnifiche sorti e progressive per sottolineare il fatto che sta ironizzando dice ma quali sono le sorti magnifiche progressive dell'umanità che la natura in un lampo ci può devastare per sempre secol superbo e sciocco chiamerà il suo secolo pensate ci vedesse oggi leopardi poi si rammarica dice bench'io sappia che oblio preme chi troppo all'età propria increbbe cioè dice io verrò dimenticato perché sono troppo avanti rispetto alla mia epoca per fortuna no perché avendo anticipato i tempi noi lo studiamo ancora meno male voi direte ma meno male più o meno io dico meno male sentite come definisce la natura l'abbiamo detto prima madre è di parto e di voler matrigna bellissima questa immagine e allora chiama gli uomini a combattere una guerra comune contro la natura vi ripeto non vuol dire incendiare i boschi e buttare i rifiuti nucleari negli oceani eh ragazzi si scherza ma per dire che allora gli uomini devono essere solidali capire la propria condizione formare questa social catena smetterla con le guerre le beghe perché siamo tutti sulla stessa disperata barca e poi di nuovo guardando gli uomini che hanno fiducia nel suo secolo e nell'umanità e nella ragione tutte le cose che ho già ripetuto mille volte dice non so se il riso o la pietà prevale cioè che faccio devo ridere di voi o avere pietà di voi e poi ancora questo l'avevamo detto quando la natura parla con l'islandese nel dialogo nelle operette morali non ha natura al seme dell'uomo più stima o cura che alla formica cioè per la natura il genere umano non vale più delle formiche caggiono i regni intanto passan genti e linguaggi ella non vede e l'uomo d'eternità si arroga il vanto dice ma basta venire qua a guardare la natura che cosa ha distrutto imperi finiti condottieri dimenticati e continua l'umanità l'essere umano ad arrogarsi il vanto di essere eterno e poi in chiusura si rivolge alla ginestra lo leggiamo per chiudere ironicamente malinconicamente ormai distaccatamente attribuisce alla ginestra quasi un coraggio una dignità un non appendersi alle illusioni che non ha l'essere umano perché la ginestra sa che da un momento all'altro verrà spazzata via da una colata di lava da un'eruzione ma continua a crescere a fare il suo a essere bella profumata sentiamo e tu lenta ginestra che di selve odorate queste campagne dispogliate adorni anche tu presto alla crudel possanza soccomberai del sotterraneo fuoco che ritornando al loco già noto stenderà la varolembo su tue molli foreste e piegherai sotto il fascio mortal non renitente il tuo capo innocente ma non piegato insino allora in darno codardamente supplicando innanzi al futuro oppressor ma non eretto con forsennato orgoglio in verle stelle né sul deserto dove e la sede i natali non per voler ma per sfortuna avesti ma più saggia ma tanto meno inferma dell'uomo quanto le frali tue stirpi non credesti o dal fato o da te fatte immortali vedete la ginestra più saggia ma di tanto dell'uomo è molto meno arrogante meno superba non credi che le tue stirpi siano immortali grazie al fato grazie a dio agli dei e nemmeno grazie a te nemmeno grazie alle nostre scoperte alla nostra filosofia al nostro pensiero alla nostra tecnologia lo so che leopardi va approfondito che è un pugno nello stomaco che ci lascia sbigottiti ma sono queste le figure che ci aprono gli occhi che ci invitano a riflettere che ci invitano ad approfondire che ci invitano paradossalmente ad amare la vita grazie a tutti